Il gioco di parole è facile ed efficace. Gorizia entra nell'era della mobilità elettrica. A Cegas APS AMGA ha installato in Largomusina, zona piazzale di Visione Mantua, la prima colonnina di ricarica elettrica della città. Un passo fondamentale per inserire anche il capoluogo isontino nel contesto della mobilità sostenibile e per la creazione di una rete capillare di ricariche per l'intera regione che fra l'altro è già sulla buona strada. Di questa scelta che abbiamo fatto di investire su questo sistema, ma soprattutto di investire a Gorizia, l'abbiamo fatta proprio con una prospettiva di creare intorno a Gorizia un movimento nuovo. Nel corso del 2017 a Trieste, ad esempio, il numero delle ricariche è quasi triplicato rispetto al 2015, anno delle prime installazioni. Una crescita ancora più evidente se si analizzano i kilowattora erogati, un dato che registra un incremento superiore al 400% sempre rispetto al 2015. Nella settimana della Barcolana abbiamo visto che le colonnine nelle aree adiacenti le rive a Trieste sono state molto utilizzate, soprattutto da stranieri che arrivavano a Trieste ovviamente per vedere la Barcolana con auto elettriche e hanno utilizzato ben volentieri le nostre colonnine per poter ricaricare le loro autoveicoli. E quindi si comincia a muovere qualcosa anche se vogliamo dal punto di vista turistico. Il progetto complessivo prevede per Gorizia l'installazione di ulteriori quattro colonnine in via Leoriani, via Bayamonti, via Della Bona e via Oberdan, sulla base dell'andamento delle ricariche in modo da seguire le necessità di rifornimento dei cittadini. La nostra esperienza che abbiamo già sviluppato a Imola, Modena, Trieste, ci dice che si parte con l'infrastruttura, all'inizio l'infrastruttura è guardata con un po' di attenzione, dopodiché arrivano le auto elettriche. La nostra speranza è che fra 5-6 anni, 7 anni, 5 colonnine siano poche, perciò in questo caso ci doteremo di altre ancora. La colonnina è installata a Gorizia, alimentata a 400 volt, dotata di due standard di prese di ricarica per consentire il rifornimento lento e veloce dei veicoli anche in simultanea. Un sistema antivandalo protegge la presa in stand-by, laddove un altro sistema di blocco della presa impedisce la disconnessione non autorizzata del connettore durante l'erogazione.